5 Notti da Freddy Sembra quasi il titolo di una pellicola anni 80, un filmaccio di quelli horror fatti così con due soldi Che però hanno quel twist interessante che alla fine sembra quasi che il protagonista sia riuscito a sopravvivere Ma poi in realtà è tutto quanto un sogno oppure muore all'ultimo perché gli prende un coccolone e cose così Non sono un profano dei Five Nights at Freddy's, ho giocato il primo, non l'ho mai finito Però ho detto perché non provare ancora una volta magari un nuovo titolo di Five Nights at Freddy's Proviamolo È bello come ci sia l'opzione volume degli spaventi, lo metto basso perché mi danno molto fastidio Mi ricordo quelli che c'erano nel primo Five Nights at Freddy's e mi davano molto fastidio, urlavano senza motivo Oh Gagliardi Ma è Jump di Evan Allen Stacca sta tastiera Poi ragazzi Cioè con un intro del genere tu dici cavolo che giocone Grande Quella ti accica Ma questa Ha i Dark Punk hanno fatto, uguale La paura Questo è Glam Rock praticamente, bellissimo Mungomeri Gator Roxanne Wolf, a qui ne lo metto l'uco Glam Rock Chica E Freddy Fazbear Bear, Fazbear, birra, birra Oh no, sta impazzendo Ma io controllo il mostro stavolta, magari Sarebbe figo Ma non credo Niente, morto E allora qui inizia il vero problema Dobbiamo chiamare l'assistenza Io sono il tecnico che va lì E i mostri non si possono aggiustare e mi uccidono Beh, insomma Sembra fighissimo morire in questa maniera E ora sta, no? Dio santissimo Scania e completi Eh Cosa è? Sono Gregory Gregory Mmh E' scaso ve lo stai sticchierendo? Sto giocando la Switch Chi è? Chi è? Chi è? Ciao Ciao Ok, ora Freddy mi dà i Freddy Fazwatch Dov'è? Ah, ok Grazie Ah, tieni premuto Ah Ai 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 Mmmh Sta meccanica Non sarà molto Molto bella Più avanti Queste sono le telecamere Questa è la mappa che non vediamo niente Trovo il pulsante Questo è il pulsante da premere quindi Ah, iniziamo così Bene, bene Libera Freddy Ok 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 Ok, quindi devo aprire la porta però da lui devo uscire quindi Ho capito Tieni premuto Y per salvare, ci vorrà un po' di tempo Wow Quindi questo è il punto di salvataggio Allora, mi dice di liberare Freddy come missione Però io non so dove devo andare A parte che non si vede niente Primo Secondo Boh Ah, forse devo Ah, devo andare qua, certo L'unico posto possibile dove posso arrampicarmi Tu dici, quale che fai? No, no, no Eccolo qua Accucciati Tieni premuto R per accucciarti Ma siamo matti? Ah no, devo prenderlo solo una volta Non per sempre Ok Meno male Chi è? Ah, sta parlando con se stessa Senti che scrittura d'acqua elettrica potente Dove, dove, dove Quanto è lunga sta strada Ok Ok Ok, posso anche correre Ma solo per un certo periodo di tempo Ah, non devo farmi vedere della guardia però O non c'è la guardia No, non c'è la guardia No, no Freddi ovviamente che è la star dello show Alla porta quella, no Più Più sorvegliata Un passo fotografico Un passo fotografico Ah, si è caricato Ok Crociamoci e via Dai banconi Ah, qua quindi, no? Certo, se tutto fosse meno Meno scuro Allora, sta di fatto che non ci si vede nulla Cos'è questo ora? Non mi dico che è questo Se è questo Lo dico chiaramente Oh, Dio, santissimo Questo era lo jumpscare più brutto di tutti, mi sa I robot non possono trovare Gregory mentre sta controllando Freddy Certo, è ovvio Oh, e ora andiamo come Freddy Fazbear La carica non è completa Quindi raggiungi la hall principale del Pizzaplex Roxy Hello Eccola Grande Tunnel di servizio Solo staff Ah, hanno tradotto anche questo Grande Ma lo staff chi è? Quelli che hanno il locale o i robot qua? Sì, però Perché devi caricare ogni due passi che fai? Per favore Già che va a scatti Se poi ti metti pure a caricare Non vi ne ho più Qua che ci sta Ma è un robot inserviente Fratello, ti libererò un giorno Bene Bene Firmati Ah, sta farà solo Che fai? Ah In lockdown ancora? Oh, officer Vanessa Non so come ho arrivato qui Oddio, oddio, oddio Quindi era scritta da sta cosa Dovano a spondermi Vabbè, sì, lo so Ok, andiamo Dai, vai, vai Quindi Devo stare attento a non farmi vedere da quella guardia Comunque, no? Ma non importa Se mi vede Basta che mi sto zitto Ok, sì Ok, sì Ok, sì Vabbè Vabbè Eh, meno male Sì, ma allora Che è servita quella cosa con la guardia? Cioè, a nulla Ok, il ciclo di carica finirà allo scadere dell'ora Va bene Quindi Immagino che Sarà un problema Ok, quindi ora C'è forse qualche Un po' di pericolo Che da guardia Posso trovarmi Immagino Allora Premi Y per buttare oggetti a terra E distrarre i bot Non farti scovare Allora Aspetta Fammi capire Ora lei arriva da lì, no? Ah no Aspetta Ora se n'è andata lei Che palle Allora Io mo Sinceramente non mi frega niente Allora Distrazione Vai Vediamo che fa Lei arriva lì, no? E guarda Sì, vabbè Off limits Allora Quindi Ok Ok Quindi così sono tranquillo Sì Va bene Fatto Oh Andiamo 15 Care primo ostacolo Da superare Non puoi correre in eterno Sì Non siamo in un videogioco Infatti Ok Calvolo Però siamo bassini Siamo picconi davvero Accidenti Qua c'è nessun altro Che rompe le scatoline No Perfetto Allora Vediamo un po' Ok Penso che andrò di qua Sì Perché possiamo salvare Rosso Il rosso indica pericolo Ah Quest'area è interdetta All'alligatore Poverino Mi dispiace Sghilli Folk Eh non posso No Perché urli Va bene Non mi serve Lui Che mi fa There you are Che ho trovato Non mi serve Che me lo fa Non mi sono perso Roxy No Corri tu Che cavolo fai Che ti fermi È scemo Non mi ha visto È scemo È scemo Non mi ha visto Mi sono accucciato Davanti a lui Non mi ha visto Ma attraverso le sbarre Mi ha preso Attraverso la grata Ma siamo scemi Ma attraverso la grata Come ha fatto A prendermi Ah perché sono animatronics Possono smaterializzarsi E quindi Smaterializzare anche Quando ti toccano Smaterializzano Anche a te Ti trascinano Attraverso la grata Vabbà caga Allora Vedete una seconda sposta Ah è fatta apposta Per troppo Per muverti Quando ti muovi tu Ho capito Guarda come vengo di fuori Piene di fuori Corri mannaggia Corri No 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 Corri corri Perché sei girato Perché ti sei girato A fermarti Perché ti sei messo a guardarli Corri 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 Dove devo andare No di qua no Il sistema è tutto chiuso Perché è tutto chiuso Oh Oh devo salire Oh E dimmelo prima Che devo salire No Cavolo Non ci si capisce Eh scusate il francesismo Eh Però corri tu Accidenti a te Oh Salvo Probabilmente sono salvo Si Si Questo sta qui a rompere le scatole Chica sta là che si gratta le caviglie E qui non c'è nulla Posso salvare, bene